Quattro proiettili esplosi in poco più di 24 ore, tre pistolettate in altrettante zone della città di Nocera Inferiore. Si ha paura, sembra essere precipitati negli anni della tensione camorristica. Qualche avvertimento c'era stato tra l'estate e l'autunno di qualche anno fa, poi solo episodi sporadici. Nelle ultime 36 ore si è ritornato a sentire nell'aria l'odore di polvere da sparo. Ieri, intorno alle 12, un colpo di pistola è stato esploso verso un negozio di barbiere in via Giordano, uno sparo in pieno giorno con la strada del quartiere Santa Chiara affollata per la presenza del distretto sanitario dell'Asla, a quell'ora pieno di utenti. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale e della scientifica di Nocera Inferiore. Non è ancora chiaro se la pallottola fosse diretta a qualcuno che era all'interno dell'attività commerciale o solo stesse passando da quelle parti. Questa sera il bis e il tris, quasi in contemporanea, intorno alle 18, due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Garibaldi. In questo caso c'è stato un gambizzato ad entrambi gli arti inferiori. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Umberto I, non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe però raccontato di aver sentito i colpi e di aver pensato che si trattasse di fuochi pirotecnici, poi invece avvertito dolore e bruciore alle gambe. Pochi minuti dopo un altro sparo in via Marconi, a Rione Arenula. Nessun ferito ma tanto spavento. Il proiettile ha raggiunto la vetrina di un negozio di abbigliamento che si trova a pochi metri dall'ufficio postale. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Tre episodi di fuoco che fanno temere la popolazione nocerina e i tanti che frequentano la città per servizi svago. Questa mattina il sindaco Maglio Torquato ha chiesto la convocazione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Una proposta avanzata ieri dal consigliere comunale Tony Alanzetta e ribadita nel pomeriggio, dopo gli episodi di fuoco, dal consigliere del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spinelli che ha chiesto in particolare l'avvio dell'operazione Strade Sicure anche a Nocera Inferiore.